Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo e sportivi che hanno varcato la soglia di Rimini Fiera in questa seconda giornata di Rimini Wellness c'è anche Clemente Russo, il campione di pugilato. Come faccio a non partecipare alla fiera del mio amore, del mio sport, del mio mondo, quello sportivo, quindi ecco mi piace tanto. E poi è vero che tutti noi siamo formati, ci formiamo, ci amiamo il mondo, però quello che si vede a Rimini non si vede a nessuna parte, quindi come innovazioni proprio le vedi qua per la prima volta. E che consiglio ti sentiresti di dare alle tante persone che sono appassionate, che sono qui in fiera, che non lo fanno di professione ma che magari vorrebbero avvicinarsi a questo mondo? Ma che sicuramente oggi il pugilato è per tutti, anche abbiamo avuto un incremento del doppio degli iscritti della box amatoriale, no? Perché anche il professionista, anche in palestra da me, arrivano avvocati, arrivano notai, anche di età avanzata, perché giustamente non gli piace di andarsi a fare un allenamento normale, mentre il pugilato è un allenamento completo, sia di testa che di fisico, quindi vanno al lavoro e che si sentono, diciamo, scaricati di tensioni e carichi per cominciare una giornata di lavoro. Grazie a tutti.